Imbattuta in casa e capolista del campionato Under 15 d'eccellenza, non smette di innalenare record alla Matteotti Corato, l'ultimo dei quali è frutto del doppio successo in appena 48 ore contro Castellaneta e Cusbari. Impegni ravvicinati tutti i casalinghi che non scalfiscono le energie della formazione allenata da coach Lerro, il cui cammino immacolato in casa è arricchito dalle ultime due vittorie. Sudata ma meritata quella contro il Castellaneta, tenuta in partita dal trio Patella, La Salvia e Di Monte, 67 punti dei 71 complessivi li hanno messi a referto questi tre ragazzi, ma regolata da una Matteotti che le punte di Diamante le ha in Antonacci, Mascoli e Gatta, ma anche ottimi interpreti di gioco per la squadra in tutti i ragazzi a disposizione di Lerro. E la differenza, alla fine dei 40 minuti in equilibrio, l'ha fatta proprio la compattezza di un gruppo, capace di 14 vittorie su 15 gare di campionato, ne mancano appena tre per chiudere la stagione regolare, figlie anche di un attacco che ha realizzato 1.337 punti e il migliore di questo torneo Under-15. Cifre cresciute anche grazie al largo successo nella gara di lunedì sera contro il Cusbari, avversario di ben diversa caratura rispetto alla formazione ionica. I baresi hanno appena quattro punti in classifica, domati in cinque minuti così da rendere il resto della partita un ottimo allenamento, con la rotazione completa di tutti i giocatori a disposizione di Lerro. Il primato è saldamente nelle mani della Matteotti Corato, nonostante il Monteroni, la più diretta inseguitrice, abbia una gara da recuperare. Il prossimo impegno contro il New Basket 99 Lecce non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per i Coratini, ma per confermarsi bisognerà tenere alta la concentrazione.